Dopo l'anno 1000, i commerci a media e lunga distanza in Europa conobbero un nuovo sviluppo. I trasporti via terra rimanevano ancora piuttosto difficoltosi, perciò i principali centri commerciali si trovavano lungo i grandi fiumi navigabili e lungo le coste. Nell'Europa del Nord si svilupparono i porti delle città anseatiche, come Hamburgo e Lubecca. Nel Mediterraneo, Genova si impose come una delle principali potenze commerciali. Tuttavia i genovesi subirono sempre più la concorrenza di Venezia e nel Basso Medioevo le due repubbliche si scontrarono a lungo per l'egemonia commerciale.